buonanotte ci vediamo alla prossima serata a tema no no allora con lui aspetta Emirati Arabi aspetta Emirati Arabi ragazzi con lui ci vediamo a forum quando è che lo fanno a forum? settembre 2012 Massimino che era questa? sto cazzo! che l'ho fatto! Adriano! bo 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 bo! lo conosci benissimo? di 600 io ce l'ho fatta oh Massimo dove andrà? grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!